Nella primavera del 1944 furono sei gli operai della Nuova Opinione che dopo uno sciopero per la pace e la libertà vennero deportati nel lager nazista di Mauthausen. Ne tornò vivo uno solo e oggi a distanza di 72 anni, come ogni anno, si sono ricordati coloro che, con sacrificio, liberarono l'Italia dal nazifascismo. Presente la cerimonia per la liberazione, gli operai della Nuova Opinione, il presidente Massimo Messeri e il presidente della regione toscana Enrico Rossi, che ha parlato di un filo che collega coloro che si batterono per liberare l'Italia e il nostro presente. Ideali di libertà, di pace, di giustizia sociale e diritti ottenuti che vengono difesi anche oggi, grazie all'impegno di giovani come Gabriele del Grande, detenuto in Turchia, e Giulio Reggeni, torturato e ucciso in Egitto. Penso ai tanti giovani che hanno una visione mondiale e credono che la lotta per un mondo migliore possa essere un motivo forte di impegno per la loro vita. Noi a queste persone, a questi ragazzi, a queste ragazze, dobbiamo dare tutto il nostro sostegno e così il mondo ritroverà la strada giusta. Pace e diritti, quindi, le parole d'ordine alla base di questa giornata La Nuova Opinione, valori che devono essere trasmessi alle nuove generazioni. La garanzia è che certe situazioni di regimi totalitari non si ripetano più. Questo è un paese che merita di vivere nella pace sociale e nella totale democrazia. ha imparato a farlo con tutte le sue difficoltà ed è giusto che anche le prossime generazioni possano avere questo tipo di garanzia.